Presentato il manifesto è il programma ufficiale della 55esima edizione del Palio de San Michele di Bastia Umbra. L'immagine del manifesto viene scandita dai colori dei rioni e mette in rilevanza il logo del lente Palio. In primo piano ci sono gli aspetti che caratterizzano l'unicità della manifestazione, sfilate, giochi in piazza, leizza e taverne enogastronomiche. In fondo c'è la foto di piazza Mazzini grenita di gente durante l'assignazione del Palio, che si svolgerà a Bastia Umbra da 19 al 30 settembre.